Mimmo Ferretti dei Messaggero, buongiorno! Allora prendo la rincorsa perché, allora, buongiorno Rossi, buongiorno Paglia, buongiorno Righetti, buongiorno Tonetto, buongiorno, buon appetito a tutti, eh! Allora, Tonetto ti sta facendo, ti sta salutando dall'altra parte del Veto. Ciao Mimmo, buongiorno! Ti sta salutando dall'altra parte del Veto Tonetto con la manina perché è uscito, è uscito... Ti fa schifo, lo sai, in diretta. Eh, guarda, esattamente, sono esattamente le parole che ha detto... Adriano che ciccione, o mica mi ricordavo così. No, vabbè, adesso... Ferretti! Eccoci! Io ho aspettato, io ho aspettato, raramente ho aspettato con curiosità e con apprezzione... No, non sto scherzando, sono molto interessato in particolare all'argomento di oggi perché credo che ieri si sia scritta, a questo punto dobbiamo dire, ci abbiamo provato a fare da contrattare anche ieri con Mimmo quando dicevamo, mi sa che non abbiamo capito sta Roma che ha combinato, eccetera, eccetera... Argomento assurdo, voi capite di che parliamo? Argomento Garzia, argomento Garzia, argomento Garzia, ci abbiamo provato un po' in tutti i modi, eccetera, eccetera... Devo dire che probabilmente, se non altro da un punto di vista... Se non fosse da un punto di vista sostanziale, perché questo poi lo dobbiamo stabilire col dibattito, magari da un punto di vista formale, secondo me anche Garzia è un po' cascato nel tafazzismo, perché nel dire per la quarta volta, quinta volta, in pochi giorni, resto ma con la squadra competitiva, ovviamente poi ti spinge a fare quel meccanismo di ipotesi che aveva fatto Mimmo post Fiorentina-Roma sulle parole dei Baldissoni. Post Pasquetta. Post Pasquetta, esattamente. Quindi è inevitabile che si va... Ti faccio una domanda per provocazione, così ti do il gancio. Ma non è che a questo punto, leggendole col senno di poi, ma non è che quelle dei Baldissoni erano parole di reazione a una situazione preesistente a sto punto? Perché... Ma questa è un'ipotesi che era stata anche accennata durante il collegamento Pasquettano con Fallica e con Petrucci, perché... Era una difesa, magari. A questo punto posso... Ma no, perché può essere anche una cosa, che facciamo il fantagiornalismo, che poi tu sai perfettamente che il fantagiornalismo talvolta è quello reale, no? Per cui ipotizziamo che l'Avvocato Baldissoni, direttore generale della Roma, avesse saputo che il signor Rudy Garcia era stato contrattato dal Barcellona, allora attraverso quelle parole voleva mandare un messaggio al signor Rudy Garcia dicendo riguarda che sappi che tu non sei l'uomo della provvidenza, che noi ci siamo stati prima e la Roma ci sarà prima di te, ci è stata prima di te, ci sarà dopo di te, eccetera, eccetera. Questa è un'ipotesi che... Tra le tante ipotesi che erano state fatte, no? Nel momento in cui uno ascolta quelle dichiarazioni lì, quindi quello che tu dici è un'ipotesi che è plausibile, non so se è vera, non so se questa sia la verità, però è un'ipotesi che ci può stare. Come tutte le altre ipotesi che abbiamo fatti, io ti dico che il fatto che Rudy Garcia anche ieri a Sport Mediaset abbia detto quelle cose, è semplicemente legato dal fatto che lui praticamente fa un'intervista ogni giorno e se gli chiedono le cose del suo futuro lui risponde a tutti alla stessa maniera. Il problema semmai qual è? Che adesso tra poco comincerà un'altra conferenza stampa e sicuramente a Rudy Garcia verrà chiesta una cosa di queste due, io difficilmente penso che lui scanserà, cercherà di deviare perché è uno che ha sempre risposto al suo modo a tutto. Io non ci vedo una reiterazione, diciamo così, sul fatto di voler battere sempre su quel tasso. Lui batte su quel tasso perché quello gli viene chiesto e lui risponde. Ti faccio anche un'aggiunta a tutto questo. Ieri ci si chiedeva come la società avesse preso questa ennesima dichiarazione di Rudy Garcia. Per quello che sono riuscito a recuperare io, ma non perché recupero qua e là, ma semplicemente perché poi a fronte di tutte le richieste che la Roma aveva ricevuto per avere un commento, un giudizio, se mai ci fosse stato un commento, un giudizio sulla delegazione di Rudy Garcia, a me francamente non mi interessava molto quale fosse il parere della società perché avevo provveduto a parlare che per conto mio con chi di dovere, però poi alla fine è arrivata anche a me una telefonata attraverso la quale non in forma ufficiale ma ufficiosa senza, come posso dire, attribuire la dichiarazione a nessuno della Roma, ma in un certo senso poi attribuirla a tutti, le dichiarazioni di Rudy Garcia venivano in qualche modo sposate al 100% da parte della società, nel senso che è anche desiderio da parte della società migliorare la squadra per poter competere l'anno prossimo per vincere lo scudetto e fare una grande Champions League, quindi sotto l'aspetto formale, eh David capisci no? Sì. Sotto l'aspetto formale mi sembra che la società e l'allenatore vadano a braccetto, vadano perfettamente d'accordo, se poi dopo noi andiamo a vedere le sfumature, le dichiarazioni dell'uno, le dichiarazioni dell'altro, allora potremmo andare anche a rintracciare qualcosina no? Però io non so se poi questa qualcosina sia la verità o siano soltanto delle illazioni, mi spiego? Però il fatto che lui ogni volta dica che è peripì, 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 è il fatto che lui fa tutti i giorni un'intervista, fa un'intervista al giorno, ieri per esempio c'era la CNN a Tricoria, no? Oltre a Cristian Totti c'era anche la CNN che ha fatto tutta una serie di cose legate al mondiale, però hanno sentito dei russi, hanno sentito Pianic, hanno sentito Gervinio, hanno anche sentito Totti e ovviamente hanno sentito anche a Rudy Garcia, probabilmente la CNN se fa un programma legato al mondiale non gli chiede del suo futuro, ma se arriva lì Braghino, direttore di Sport Medio, che ha la possibilità di fare un'intervista l'anno a Tricoria a Rudy Garcia, la prima cosa che gli chiede, credo anche abbastanza giustamente, visto che tutti i giornali sono pieni delle notizie dell'interessamento dei grandi club europei per il Garcia, la prima cosa che gli fa è ma lei che fa l'anno prossimo rimane e il Garcia risponde. Cioè, da una parte io la vedo in questo modo dall'altra, però il fatto che lui continui a dire tutti i giorni questa cosa, poi non vorrei che poi alla fine la società, come posso dire, si risentisse o si fosse risentita per tornare a Firenze. L'unico modo, caro David, che ci sta per si tire tutto e tutti, per cancellare qualsiasi tipo di polemica, per spazzare via le ombre, per far tornare il sereno, semmai il sereno se ne fosse andato, è mettersi intorno a un tavolo, cosa che accadrà sicuramente nelle prossime ore dopo la partita con il Milan tra il DS Walter Sabatini e l'allenatore e programmare il futuro, ma soprattutto per quello che mi riguarda, firmare il prolungamento del contratto di Rudy Garcia, perché quello taglierebbe proprio la testa a tutti i tori del mondo, sei d'accordo Ubaldo? perché tu dici, ok, potete fare quello che vi pare, potete dire quello che vi pare, la nostra risposta, la risposta contemporanea, sia dell'allenatore, sia della società, ecco, ci stringiamo la mano e andiamo avanti per altri due o tre anni, punto e basta, quella è la soluzione ottimale. Mimmo, abbiamo parlato spesso, abbiamo definito in senso benevole, lo sottolineo perché come hai dovuto sottolinearlo te e qualcuno, tanto chi non vuole capire non capisce, ma quello è un problema suo, qui non si sta, stamattina stiamo cercando di capire cosa c'è, se c'è qualcosa dietro le parole di Garcia o se semplicemente quello che dice Garcia è quello che sembra, cioè una semplice esortazione, quindi la redirezione, per esempio Mimmo ha dato una spiegazione, se io chiedo non lui risponde, io le posso... Aspetta, fammi dire un'altra cosa, scusa Davide, siccome sono parte in causa, nel senso che anche se non sembra che io faccia questo messiere, nel momento in cui io volessi intervistare Garcia, non chiedo il permesso a Garcia, chiedo il permesso alla società, cioè quindi chiedo il permesso all'ufficio stampa, all'ufficio comunicazione, che se non autorizza l'allenatore a parlare con il determinato giornalista, l'intervista non si fa, ok? Nel momento in cui la società autorizza Rudy Garcia a fare un'intervista, sa perfettamente che Rudy Garcia a domanda risponderà, quindi se ci fosse, come ti posso dire, la volontà della società di in qualche maniera evitare che Rudy Garcia reiterasse queste sue dichiarazioni, probabilmente non gli darebbe il permesso di fare le interviste, nel momento in cui la società dà il permesso a Garcia vuol dire che la società sa che Garcia dirà quelle cose e di conseguenza la società le condivide, o se non le condivide non si preoccupa di quello che poi dirà Garcia, perché la società sa effettivamente come stanno le cose. Chiudo la parentesi, prego. Ecco, dicevo, abbiamo definito spesso in maniera positiva, Garcia un paraculo, perché abbiamo detto è un paraculo, abbiamo usato questo termine, chissà se qualcuno lo può tradurre in qualche modo. Paracul, però questo è il dialetto della Francia del Nord. Esattamente, Normandia, Bretagna, Gran Bretagna. Esattamente. Quando gli fanno sempre la stessa domanda, se lui vuole rispondere in un modo risponde in un modo, se lui vuole sviare svia eccetera eccetera. Io credo che lui è perfettamente consapevole di essere un uomo di comunicazione importante, che quello che viene detto viene sminuzzato, passato al sedaccio tipo CSI. Domanda che ti faccio? Tu dici, formalmente, il fatto che la società continua ad autorizzarlo all'intervista, il fatto che comunque non c'è nessun tipo di manifestazione avversa a quello che dice il mister. Anzi, la società, forse non mi sono spiegato, ma io la società è venuta a far sapere di essere d'accordo con Garcia. Perfetto, ok. Quello che dico io però, se io proprietario della Roma, mi metto che posso essere Pallotta, ma posso essere Berlusconi, Doire eccetera eccetera, posso pure pensare che lui è veramente un paraculo, perché se vengono acquistati dei giocatori, cioè se la Roma viene a giudizio della piazza costrita non competitiva abbastanza, cioè se non vengono comprati i giocatori che la piazza giudica competitiva, allenatore dice, vabbè io però avevo chiesti, quindi non è colpa mia. Cioè nel senso io dall'inizio quante volte ho battuto questa cosa, se poi ne compra è colpa mia. Oppure se la società invece costruisce una squadra competitiva, dicono, grazie mister, grazie a te la società è stata pungolata e hanno comprati i giocatori. Quindi se va bene alla società va pari, se va male va una brutta figura. Eh però, però questo è vero, però è vero anche il contrario, nel senso che noi non possiamo fare il processo alle intenzioni, nel senso che non sappiamo quello che eventualmente accadrà e quello che potrebbe essere poi la replica dell'uno dall'altra parte. Noi sappiamo soltanto che c'è un allenatore che ha parlato chiaro, l'ha detto due, tre, quattro, cinque, sei, non so quante volte più l'ha detto che innanzitutto la notizia che secondo me, dal mio punto di vista, quella che maggiormente mi interessa che lui non perda occasione per dire una cosa. Ah, io resto alla Roma. Cioè, indipendentemente dal fatto che si sono presentati il Barcellona, si presenterà il PSC, che si presenta l'Arsenal, che si presenta forse qualche di un altro. Monaco. Monaco, esattamente, che effettino non ho più vedere. Lui dice, no, io rimango alla Roma. Questo è il punto, secondo me. Questo è il punto. Lui non dice, attenzione, lui dice, io rimango alla Roma se me fanno la grande squadra. Attenzione, lui dice, io rimango alla Roma, punto. Però voglio una grande squadra perché l'anno prossimo ci sarà più difficile competere per lo Scudetto e siccome voglio far bene in Champions League, eccetera, eccetera. Lui non detta le condizioni. Lui le sue condizioni già le ha cancellate nel momento in cui ti dice, io resto alla Roma. La sua priorità è stata sempre la Roma. Cioè, non c'è bisogno che lui lo dica pubblicamente, no? Non c'è bisogno che lui si esponga più di quanto si si è esposto fino a questo momento per dire di non volersene andare. Non è, un gioco al ricattuccio, capisci, David? Cioè, lui non l'ho mai sentito dire, ah, guardate, io rimango solo se mi fanno la grande squadra perché se non mi fanno la grande squadra me ne vado. Questo non l'ha mai detto e non lo pensa. Lui ha detto semplicemente io rimango, punto. Però voglio che la squadra venga migliorata perché la mia ambizione è quella di lottare per lo Scudetto e per la Champions League. Quindi il discorso che poi dopo uno possa pensare, qui gli schieramenti ci sono sempre stati, cioè, dai tempi dei Guelfi e Pellini, no? Nel senso che secondo poi come andranno le cose ci sarà chi sarà convinto di aver visto giusto, di aver spinto nella giusta direzione e chi sarà invece convinto che la direzione magari più giusta era un'altra. Semplicemente questo. Però la cosa che io ti voglio dire, caro David, e vorrei sottolinearla insieme con Alessandro e con Ubaldo e con tutti quanti, che da Fiorentina a Roma in poi, ad oggi, che stiamo per giocare domani di Roma Mila. Se è soltanto parlato delle dichiarazioni di Baldissoni e delle dichiarazioni di Cassia. E questo è il punto. È una grande sconfitta. Io la vivo come una grande sconfitta. No, 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 non ti dico una grande sconfitta. Ti dico che era logico, era logico nel momento in cui veniva, come ti posso... Allora, posso ripetere l'aggettivo che è stato usato il giorno di Pasquetta. Dichiarazioni incaute da parte dell'Avvocato Baldissoni. Secondo me, ma insomma, perché poi lo vedi che cosa succede. Che è una settimana che se stiamo a trascinavanti con queste cose. E allora forse era il caso... Allora tu mi dici, ma forse lui l'ha fatta perché sapeva che Garzia si stava a modo in un certo modo. Può darsi, non so se è vero. Io non ho visto talmente tante nel mondo del carcere, non metto la mano sul fuoco, su niente assolutamente. Però questo era un post Fiorentina-Roma che doveva essere salutato dalla grande gioia dell'esaltazione, di aver stagliato il traguardo del raggiungimento, il Champions League, eccetera, eccetera. In realtà è una settimana che stiamo a parlare. Una volta è Baldissoni, una volta è Regazzia, una volta è Regazzia, una volta è Baldissoni. E questo è il punto che secondo me stride un pochettino. Poi le notizie stanno a zero perché se io potessi virgolettare qualche parola di Baldissoni, ma immagino è, nel senso non mi permetto di attribuirgli qualche frase. Però io immagino che sia, a precisa domanda, venisse chiesto al direttore generale della Roma, voi avete intenzione di confermare Garzia? Quello ti risponde certo, abbiamo intenzione di confermare Garzia, di prolungargli il contratto, eravamo rimasti d'accordo che ci saremmo rivisti alla fine della stagione, quando finirà il campionato ci metteremo intorno al tavolo e discuteremo. Immagino che sarebbe questa la risposta. Tra l'altro l'ha detta a Firenze. Abbiamo intenzione di tenere Garzia a lungo, ha detto nella stessa... Sì, però io ho fatto proprio il discorsetto. Sì, sì, ho capito. Capisci, quindi ti faccio proprio il discorsetto del bravo giornalista che si interessa di tutte le faccende. Se tu vai da Garzelli e dici, mister, lei l'anno prossimo parlerà francese come gli hanno fatto l'imbocco o continuerà ad allenare la Roma? Garzia dice, io rimango qui. Allora, la Roma dice Garzia resta con noi. Garzia dice, io rimango da Roma dove si ha il problema. Il problema sta nel fatto che l'allenatore continua a dire, io voglio una grande squadra. È lo stesso che dice la società, perché la società ieri, te lo ripeto, David, ha fatto sapere, ha chiamato tutto e tutti per dire, guardate che la società a Roma è sulla stessa lunghezza d'onda dell'allenatore. Guardate, che stiamo a parlare? Stiamo parlando che c'è il GM. Stiamo parlando che c'è il GM. Stiamo a parlare di queste cose. Vai, chiamano i nozantarelli. È già pronto, è già pronto i nozantarelli alzantarelli del vetro. Un attimo, no? Non mi aiutare, non mi aiutare. Mimmo? C'hai l'iPhone da vendere a Righetti? Rubato, però. Che cosa? Io asciugamano, non lo uso. No, con l'hai asciugamano. Complimenti, Ferrissi. Mimmo, di cosa può aver paura, Garzia? Non ti nascondo che a me queste dichiarazioni non hanno fatto impazzire. Non ti hanno fatto impazzire? Ma lo sai cosa? Perché è una cosa palese, certa e si sa, no? A Roma vuole migliorare. Lui vuole migliorare, basterebbe dire una volta, due volte, tre volte. Alla quarta volta, io personalmente, che magari non lo so, posso pensare che qualcuno gli ha detto che Piani ci va via, che qualcuno gli ha detto che è una squadra che oggi offre 72 milioni di euro per Cavani e gli ha offerto magari la metà per Pianatiati. È proprio questo il danno a cui faceva riferimento Mimmo oggi. Quando poi se innesca il meccanismo e fa stiamo a parlare di queste cazzate, invece stiamo a parlare da Roma. Però voglio dire, noi ne stiamo parlando perché l'allenatore da Roma dice, resto, ma voglio una grande squadra. Eh, oh, ma è giusto parlarne. Con l'altro non sei a provvidenza. Però se tutti fossero stati meno, come ti posso dire? Incauti. Incauti. Intanto questo è l'aggettivo della settimana. Probabilmente tutto sarebbe terminato lì, non si sarebbe creato un clima così sempre di sospetto. Dio ha detto questo, ma vorrei di quello o vorrei di un'altra cosa? E se ha detto questo, perché ha detto? Adesso mi è arrivato un messaggio, uno che mi scrive, un mio amico fa altre cose. Dice, ma la società ieri ha tenuto a dire, allora perché voleva dirlo, come se fosse una convinta, perché è stata scritta? Cioè, lo vedi, David, qualsiasi cosa tu fai o dici, non io, eh, ma la Roma, che sia, può essere interpretato bipolarmente. Eh, lo dico bene? Cioè, nel senso che ognuno gli dà la sua interpretazione, la società è intervenuta perché ha fatto vedere, invece in realtà no, io ero del chicco e no, ma che cazzo va in cemma? Allora lo ripeto, e come le chiacchiere poi stanno a zero e tutti sono buoni a fare le chiacchiere, David, dammi retta, l'unica cosa che devi fare alla Roma, devi fare a Garcia, mettete lì e firmare il prolungamento del contratto prima possibile. E così si cancellano tutte le parole, tutte le illazioni, tutte le allusioni, tutte queste cose qui. Ma in questo, in quest'annata, Mimo, quanto volte è capitata una situazione del genere? Di, di, di fare interpretazioni? Mai. No, esattamente, ho stato dicendo, infatti, mi sembrava una domanda zero, cioè non è mai successa una cosa. No, diciamo, possiamo dire che, scusa, Mimo. La fortuna di questa squadra, il rendimento è dipesa anche dal fatto che non è mai volata una mosca, nel senso che è stata brava la società, è stato bravo l'allenatore. Soprattutto l'allenatore è stato bravo a mantenere un spogliatoio, è però, proprio perché arriva dall'allenatore, possiamo dire che, adesso, al di là delle intenzioni, possiamo rilevare un dato che mi sembra oggettivo, Mimo, che è la prima volta che Garcia prende apertamente, pubblicamente, una posizione, non dico staccata dalla società, ma... No, no, questa è posizione punto, perché se poi tu dici contro o a favore di uno, no, eh. No, però, no, però è una posizione quantomeno antagonista, nel senso, questa è la mia posizione. Dire, ma io voglio una squadra competitiva, lui non dà la certezza, cioè, lui non dimostra di avere la certezza che la squadra sarà competitiva secondo i suoi parametri, perché se no non lo pone come questione, non dico come condizione, ma come argomento, non lo direbbe, dice no, io resto punto. Se lui è certo che la squadra è competitiva, io resto punto, non c'è bisogno che aggiungo. No, non c'è manco un dubbio, però nell'ambizione di un uomo che si dichiara molto ambizioso, c'è anche il fatto di dire, oh, però può darsi che nella tua testa ci sta, siccome questa è una squadra forte. Io magari la voglio ancora più forte, riusciremo a fare delle grandi cose. Intanto noi a forza di parlare di tutte queste cose, ed è l'argomento del giorno, ci siamo persi un passaggio dell'intervista fatta ieri a Sport Mevis, perché secondo me è anche importante, tanto è vero che ha scatenato la penna un po' livorosa di tutto sport, voi l'avete visto, no? hanno aspettato 7, 8, 10 mesi per poter dare una bastonata l'utica sia, ed ovviamente non hanno perso la minima occasione per bastonare questo allenatore che se permette, si permette di non far vincere lo scudetto a 90 punti, ancora la Juventus, perché il giorno di intervista è sempre quello, c'è la Roma 82 in un l'ottavo scudetto, ma chi ce n'ha 90 ancora non ha vinto. Sì, tra l'altro scrivendo una grandissima stronzata storica Mimmo, perché si parla dell'italiota, dell'italiota usanza dietrologica tipica di quelli che da sempre quando perdono si buttano su queste cose, no, da sempre una ceppa, visto che mi sembra che nella storia della Juventus c'è una retrocessione con tanto di penalizzazione a testimonianza che forse la dietrologia, il dietrologismo era giustificato dai fatti, no? Scusate, io adesso non ricordo perché a forza dei capi quelli sul campo e quelli veri, quanti scudetti c'ha assegnati regolarmente? 29. 29, quindi so. 29, perfetto. Perché Tutto Sport fa una tabella con 31 scudetti alla Juventus? Perché Tutto Sport è l'Italia è il paese nel quale le sentenze non si rispettano. No, ma io voglio dire, magari è un errore. Mimmo, Mimmo, Mimmo. Quando facciamo, aspetta, fammi finire così mi fai altri insulti, nel momento in cui dovessimo fare una tabella legata alla Roma, mettiamo 42 scudetti. Mimmo, Mimmo, qualche tempo fa, qualche settimana fa, alla Hall of Fame, quella della Federcalcio, nello stesso giorno, nella stessa occasione, è stato premiato Capello per la sua carriera e nel curriculum di Capello venivano menzionati i due scudetti che sono stati rievocati alla Juventus, ok? Venivano menzionati dalla Hall of Fame della Federcalcio, che è quella che gli ha tolto, è quella che gli ha tolto... Aspetta, 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 subito dopo, la prima azione di Capello è stato premiato Boratti, al quale gli è stato scritto lo scudetto cosiddetto di cartone che gli è stato dato sempre da Federcalcio, che è stato quello che è stato levato a Juventus di Capello. Ma, scusami, Giacartone, Giacartone, fammi capire. Non si è capito, Giacartone. No, perché riprendiamo le battute, perché poi dopo la classe non è acqua quando ti fanno queste battute, no? No, però, Mimmo è... Comunque, a noi, io voglio dire, io quello che fanno a tutto sport, francamente, sono l'ultimo che possa di qualche cosa, però mi incuriosisce, no? Capire come mai, no? Vengono forniti questi dati, eccetera, eccetera. Però, quando Rudy Garcia, torno a ripetere, ieri ha detto, che sono squadre che stanno a lottare per la servizia e contro la Juve non hanno lottato. Ma la vogliamo sottolineare anche questa frase, perché poi se Rudy Garcia è quello che dice io voglio una grande squadra perché voglio tentare vincere lo scudetto e fa bene il Champions, è anche quello che poi ti dice queste cose. Allora, qual è il personaggio vero? Da una parte c'è uno che dice, no, se deve stare stinto, però invece deve parlare quando deve dire queste cose in cui pone un piccolo punto interrogativo sulla parte finale del campionato in relazione alle partite della Juventus. Dai, allora io me lo prendo così com'è. Se poi la società mi dice tutto a posto, perché Rudy Garcia è sulla nostra stessa lunghezza tonda e noi siamo sulla sua e lui è sulla nostra, benissimo. è tutto un grande chiacchiericcio che deve essere ovviamente, come ti posso dire, coltivato e portato avanti perché la polemica, il gusto della polemica, ci sta anche la discussione, il dibattito, però cercando, cercando per quanto possibile di restare entro i confini della credibilità da parte di tutti. Non parlo ovviamente di Roma o di Garcia, ma di chi fa magari questi dibatti per cose di questo genere. Lo ripeto, in questo caso l'unico modo per poter mettere tutto a tacere è, la Roma vuole Garcia? Sì, Garcia vuole restare a Roma? Sì, allora, matrimonio, ta 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 ta, quella lì e altri due o tre anni di contratto e tutto a posto. Speriamo, Mimmo, speriamo a questo punto davvero che le cose vadano... Ma la volontà della società è quella, la volontà della loro pure, quindi... Allora se stessero tutti zitti, così me lo stavo meglio, no? No, no, vabbè, non cominciamo però a fare, no, però è stato prima quello, non è stato quell'altro, no, perché ha detto, asilo nito così, però una volta che poi uno deve commentare, deve parlare di quello che è accaduto e poi uno fornisce le proprie interpretazioni, che non è detto che sia verità, però un'interpretazione, ad esempio l'interpretazione, quella di inizio collegamento tua, che forse Baldissone ha detto quello perché aveva saputo qualche cosa, era già stata ventilata nei giorni scorsi, perlomeno da parte mia, nel senso che poi è buono tutto, ti viene da pensare tutto, capisci, devite quello che ti voglio dire, e quindi forse sarebbe stato meglio non cadere nella tentazione di dire determinate cose, però poi ti faccio anche l'altro aggiornamento, ma un direttore generale della società, ma che deve dire se non deve dire che la società conta più di un allenatore, che è la realtà, è la verità, è la verità che la società conta più di un allenatore, però poi, vedi, detta una frase così normale, in un preciso momento storico può dare adito, come diceva quell'amichetto tuo, può dare alito invece a tutta una serie di conseguenze inimmaginabili, perché è una settimana che stiamo andando avanti con questa discussione, giustamente, perché questo è l'argomento giornalistico, però poi vai a vedere, vai a stringere, ti accorgi che stanno tutti d'accordo, no? Perché la Roma è d'accordo con Garziano, Garziano è d'accordo con la Roma, allora firmate il sovrungamento del contratto e tanti saluti. Domani c'è trasmissione? Domani c'è trasmissione Ferretti, sì. Va bene, ci salutiamo qui, eh? Sì, a domani Mimmo! Ciao Mimmo, ciao Mimmo, ciao Mimmo!